Senza caso è danno e con una difesa in emergenza, il Giulianova culla per 85 minuti il sogno di espugnare il comunale Bruno Abbatini subendo il gol del pareggio laziale all'85esimo, rammarico in casa giallorossa per il palo di Paudice al novantesimo, ma anche la consapevolezza di aver giocato una grande gara contro un avversario di rango. All'ottavo prima occasione di marca locale con D'Agostino che dai 22 metri mette di poco a lato della porta difesa d'Amora. La squadra di casa a provare a fare la gara, ma i ragazzi di Bitetto sono ordinati e non corrono grandi rischi pur non riuscendo a pungere in avanti. Si gioca su buoni ritmi con al 28esimo il lampo improvviso della formazione abruzzese con l'euro goal di Massetti che da quasi 30 metri mette la palla all'incrocio alle spalle di Santilli che non può nulla. Giulianova in vantaggio e grande festa sotto la panchina giallorossa per l'autore della rete giuliese. Squadra ospite cinica e in gol nella prima occasione utile al quarantesimo locale ad un passo dal pari con Mora che diciano a D'Agostino due passi dall'estremo giuliese sul proseguimento dell'azione palla cardella che mette a lato. Pericolo scampato per il Giulianova che stringe i denti nei minuti finali del primo tempo visto che al 45esimo Magliocchetti in area abruzzese di testa chiama la parata a terra Mora. Nella ripresa al terzo proteste della Cinzia al Balonga quando D'Agostino termina a terra in area abruzzese con il direttore di gara che fischia la punizione per il Giulianova per una posizione di fuorigioco dell'avanti Laziale. Forcing locale in questa prima parte di ripresa con Mora che al decimo dice no a Cardella respingendo il violento tiro dell'attaccante di casa. Al dodicesimo Laziali ancora vicini al pareggio con Mora che questa volta dice no anche al colpo di testa di Mazzei. Al quarto d'ora primo cambio fra gli ospiti con Paudice che prende il posto di Cesario. Continua a premere senza soluzione di continuità la squadra di Chiappara con il Giulianova rintanato nella propria metà campo. Al diciassettesimo ancora Laziali pericolosi con la parte superiore della traversa che dice no a Panaioli. Al ventesimo ancora proteste ai padroni di casa per un tocco con la mano di un giocatore del Giulianova che i Laziali sostengono. Avvenuto in area per il direttore di gara invece punizione che poi non sortisce effetti. Al venticinquesimo ancora un calcio piazzato di Cardella per la Cinzia al balonga cui si oppone in angolo il portiere del Giulianova Mora. Giallorossi stanchi che soffrono la pressione locale dopo aver resistito per 85 minuti subiscono al quarantesimo la rete del pareggio. Ad opera di Cardella bravo a controllare e a concludere con una conclusione che non lascia scampo al portiere della formazione giallorossa. Gara tutt'altro che finita visto che al quarantacinquesimo Paudice in contropiede colpisce un clamoroso palo mancando il colpo del K.O. Prima del recupero di quattro minuti che vede il Giulianova mancare in contropiede in superiorità numerica al novantaquattresimo. Una importante azione ma alla fine conquistare un punto pesante su un campo difficile come quello di Genzano.